Parlando di presenze nella città di Matera, ce ne sono tante nuovissime, come sapete Matera è un punto di riferimento, capitale europeo della cultura per quest'anno e sicuramente tanti nuovi arrivi abbiamo, ma abbiamo anche dei graditissimi ritorni ed è molto importante perché tutto ciò, specialmente il ritorno, i ritorni ci permettono di verificare anche cose che forse dall'interno, vivendo all'interno e presi da tutto questo bel ritmo positivo del 2019 non riusciamo sempre a verificare. Michelangelo Tagliaferri, che possiamo definire se me lo permette, il professore me lo permetta, un guru della comunicazione, di quelli che hanno dei punti altissimi di capacità, soprattutto di elaborazione teorica sul fronte della comunicazione a parte l'applicazione, è stato qui in altri anni, circa 20-25 anni fa, ci siamo tra l'altro incrociati in questa emittente e abbiamo parlato di tante cose e lui ebbe un quadro, anche perché lavorò in quel periodo sulla città di Matera, ebbe all'epoca un quadro particolare della situazione di questa cittadina del sud. Oggi qualcosa, direi molte cose sono cambiate. Professor Tagliaferri, intanto benvenuto o bentornato? Grazie per il tornato, speriamo di ritornare ancora. Ecco, questa cittadina, rispetto a 20-25, com'era 25 anni fa? Ecco, partiamo di là. Com'era 25 anni fa? 25 anni fa per quello che ho vissuto io, anche con i miei compagni, con i miei colleghi di avventura e con i tanti giovani che hanno lavorato anche con noi, perché allora erano giovani, adesso sono diventati tutti più grandi, hanno figli e quant'altro. No, ma per dire che questa esperienza è sempre stata accompagnata dalla gioventù di Matera. Io sono stato in grado di capire che Matera non era i suoi sassi, cioè che Matera non si poteva perdere solo dentro i sassi, che Matera, poi è diventata una banalità, che Matera aveva un potenziale umano a fronte del Mediterraneo e dell'Italia e dell'Europa, che era un unico e che potesse essere in qualche modo, a partire dai materani, valorizzato. Quindi ho vissuto una Matera, che era una Matera che guardava al passato come luogo nel quale c'era stato e forse ci sarebbe a scuola stato e chissà che cosa. Però Matera già all'epoca non piangeva su se stessa, c'erano energie vitali nuove che avanzavano. Matera era un punto di riferimento di questa energia per il futuro, mi ricordo un incontro con De Rita, sullo sviluppo di Matera di quel periodo, dove lui scommetteva come Presidente all'ora del Censis, sul fatto che questo tipo di territorio si avesse trovato come stava trovando le modalità di espressione energetica e per i giovani, e non solo per i giovani, avrebbe potuto essere un punto di riferimento per tutto il Mediterraneo. E poi c'era anche l'altro aspetto che va ricordato, che è quello relativo al fatto che stava maturando qualcosa nell'aria, appunto c'erano energie e forze nuove, ci si liberava di questo vestito un po' stretto della cosiddetta capitale contadina. Matera è diventato un polo di produzione del mobile imbottito nel frattempo. Ma ha vissuto questo come un evento che non si pensava che avvenisse, cioè nel senso che non era nei piani, ma che è avvenuto per volontà delle persone, comprese gli imprenditori che l'hanno fatto, ed è avvenuto non però il chiave casuale perché c'erano tutti gli elementi che potessero avvenire, compresi quelli dell'alta cultura della modernità, come il design e quant'altro, tutta la parte della distribuzione, tutta la parte della progettazione per andare incontro alle esigenze di un consumatore evoluto. E quindi che non si fermava assolutamente solo sui ricordi di un contado o di un'agricoltura, ma era ipermodernità e infatti ha coinvolto altri tipi di territori. Poi ci torniamo sulla ipermodernità come battuta finale. Ovviamente c'era anche un altro aspetto che era quello collegato proprio al fatto che tutto questo fermento che iniziava in quel momento poi poteva andare a parare verso qualcosa, soprattutto la notorietà. Prima, professore, lei la conosceva bene, la cittadina, anche perché voi gli esperti del campo conoscevate questa città, anche già dagli anni 50, dall'immediato dopoguerra, però ormai è diventata, è conosciuta dovunque, è cambiata proprio la percezione. Ma io credo che da una matera che era tutto sommato un elemento antico sul quale andare a verificare qualche cosa, si faceva qualche passaggio, Napoli-Bari, Bari-Napoli, poi si preseva la nave, da una via giapponese, poche cose. Matera in questo momento, se tu pensi all'Italia, al di là del fatto che poi è diventata capitale della cultura, se tu pensi a Firenze, pensi a Roma, pensi a Venezia e pensi al sud, sicuramente Napoli-Batera. Non so come dire, cioè è un punto di riferimento che tra un po' servirà come richiamo per venire qui senza dire che devi venire qui. E le persone ci verranno, ci verranno e ci staranno bene perché nel frattempo intanto sono aumentati i servizi, è aumentata la capacità produttiva e dei servizi e il resto. Quindi basterà cambiocarla questa modernità, credo che sarà importante farlo. Se mai lo farà, se non lo farà, allora è un problema dei materani, mi dispiace. Ecco, e qui ci porta al 2019 intanto, come l'ha trovata la città? Beh, non è riconoscibile dal punto di vista del rapporto col passato. Lo ha inglobato, lo ha definitivamente, secondo me, assorbito. Lei è anche questo, ma è proiettata verso il futuro. Ma è un futuro che è fatto non soltanto di capacità o turistica o legata agli aspetti territoriali della bellezza. È legata anche alla capacità di risolvere problemi. E risolvere problemi per un'area come quella territoriale del Basso Italia e del Mediterraneo che si affaccerà inevitabilmente di qua a poco a chiedere una mano per evolvere. E da Matera sono sicuro che nasceranno delle cose interessantissime. Ecco, 2019, grande fermento, grandi novità, grandi eventi, ma poi abbiamo il 2020. Cioè, l'anno dopo, il year after ci preoccupa un po' l'anno dopo. Io sono molto preoccupato per l'anno dopo, perché è come aver fatto, aver costruito una rete per andare a pescare, avere anche la barca per andare a pescare, avere la necessità del pesce da pescare e poi dire, beh, ma non ci vado. No. Credo che a partire da quello che ha fatto Matera, ed è stato veramente tantissimo, mi ha preso questa rete e in questa rete andare a pescare tutta l'Europa, una parte del Mediterraneo e proiettarsi ulteriormente. Mi viene da dire così, scherzando, probabilmente anche i pesci vogliono entrare nella rete di Matera, perché gli piace tanto. Sicuramente sì, bisogna soltanto dirlo al bue del marchio di Matera che deve essere un pochettino comprensivo, perché i pesci non sempre si fanno capire. Professore, l'ipermodernità è stata una parola che lei ha usato qualche minuto fa e che io mi sono tenuto proprio per avviarmi a conclusione di questo breve incontro. Ipermodernità, il concetto proprio, lo possiamo applicare a questa città? Sì, perché la possiamo applicare per questo motivo. Perché questa città è una città nel suo nome proprio, è il referente, è un brutto termine, ma naturale. Cioè qui c'è la natura nella sua parte più originaria. E quindi è in grado di guidare l'uomo oltre la natura, ma a partire dal rispetto della natura. Invece che un uomo che si immagina che il mondo parte solo perché lui ha inventato la tecnologia e dalla tecnologia fa nascere la natura. No, qui c'è la possibilità che una parte del mondo che crede che l'uomo sia ancora un fatto importante possa essere determinante, questa parte dell'uomo, per l'evoluzione della specie. E questo è bellissimo perché è un concetto che ci permette di sperare nel futuro. No, non sperare. Di operare nel futuro. Di operare nel futuro. Essere sicuri. Sono passati tutti di qua. È passato il Papa rispetto all'adoptic. Sì, sono passati gli uomini dell'intelligenza. Sono passati gli uomini che hanno descritto le cose più difficili di questa... Io mi ricordo quando era guardata come da distruggere tutta. Perché era in qualche modo all'altezza dell'essere umano. Oggi ha dimostrato, lo sta dimostrando, che è in parte l'essenza dell'umanità per il futuro. Bene, noi ringraziamo Michelangelo Tagliaferri per essere stato con noi e averci dato questa testimonianza nuova che viene da qualche tempo addietro e che si proietta verso il futuro e che ci permette di capire ulteriormente e spero che ci si rivedrà il più presto possibile per parlare sempre più di quello che succede in questo territorio, proprio perché in questa maniera, anche parlandone, anche applicando il concetto dell'ipermodernità che è estremamente interessante e stimolante, possiamo vedere le prospettive e soprattutto fare in modo che il 2020 e il 2021 siano anni ancora di grande movimento positivo per la città. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a tutti e viva Matera. Grazie per quel che riguarda noi, come al solito. Alla prossima.